Il gaming è tra le modalità di intrattenimento più amate in tutto il mondo. Con oltre 1.86 miliardi di giocatori solo per quanto riguarda il PC gaming non è difficile capire perché questo mondo stia richiamando così tanta attenzione verso di sé. Ed è per questo che diventa sempre più cruciale avere una piattaforma performante per riuscire a stare dietro alle ultime uscite e goderle in maniera appropriata. Ma spesso i costi possono essere proibitivi o comunque non si ha voglia di stare dietro ad aggiornamenti hardware o software. Ed è per questo che nell'ultimo mese mi sono imbarcato nell'avventura di provare a giocare per ben 30 giorni utilizzando soltanto servizi di streaming per capire se effettivamente possono essere una valida alternativa al mondo del PC gaming o se semplicemente possono essere un supporto per macchine che magari non performino più come appunto dovrebbero o vorremmo. Ecco com'è stato un mese utilizzando solo GeForce Now. Prima di iniziare metto subito in chiaro che questo video non è sponsorizzato da Nvidia. Mi hanno fornito il servizio di GeForce Now ma non hanno assolutamente controllo editoriale su quello che dirò. Le opinioni contenute in questo video sono strettamente personali ma soprattutto vi ricordo che commenti, like e iscrizioni mi aiutano a farlo diventare popolare e farlo andare in giro. Il signor Aldo Ritmo ci tiene tanto. Ad ogni modo iniziamo. Come vi dicevo all'inizio di questo video GeForce Now è uno di quei servizi di streaming che permette di ottenere una determinata potenza di calcolo per potersi godere i giochi. In pratica è come noleggiare un PC da gaming su cui poi inseriremo semplicemente le nostre piattaforme, launcher vari come per esempio Steam, Xbox, Epic Games, Ubisoft Connect o altri e poi andremo a utilizzare i titoli che già possediamo. Quindi non è un servizio come Netflix che ci offre sia la piattaforma che i contenuti ma è un po' come noleggiare un PC da gaming da un negozio che poi appunto ne rimarrà il proprietario. I giochi che metteremo su questa piattaforma derivano da quelli che abbiamo in possesso su Steam, Epic Games, Battle.net, Xbox Game Pass o anche Ubisoft Connect. Semplicemente collegando i nostri account avremo la possibilità di giocare ad un roster di titoli selezionato. Selezionati ragazzi perché effettivamente GeForce Now ha un numero limitato, un roster effettivo di titoli che può avviare. Questo perché ci sono varie collaborazioni, limitazioni e cose varie, però in generale ci sono moltissimi titoli. Sono oltre 2000 in questo momento e la cosa interessante è che si stanno impegnando per mettere al day one la maggior parte dei AAA. Quindi di per sé per esempio Star Wars Outlaws è uscito effettivamente al day one, Black Myth Wukong è un altro titolo che appunto è stato rilasciato in contemporanea su GeForce Now così come sulle piattaforme convenzionali per i PC da gaming fisici. In poche parole c'è un forte interesse da parte di Nvidia per portare il maggior numero di titoli possibili sulla piattaforma. Ovviamente questi 2000 titoli potrebbero sembrare pochi rispetto al milione passa di cui gode il PC gaming. Quindi ho voluto incrociare un pochettino i miei launcher e vedere quanti titoli erano disponibili effettivamente. Allora, dei miei 156 titoli su Steam, 58 sono disponibili su GeForce Now. Dei 466 titoli su Game Pass ne abbiamo 146. Dei miei 28 giochi su Ubisoft ne supporta ben 27, siamo quasi alla totalità, ma soltanto perché uno che avanza effettivamente è una sorta di beta test. Quindi sono in realtà 27 su 27. E su Battle.net invece il supporto è completo, il che è molto positivo. Infine ci sarebbe Epic Games, però per qualche motivo non mi fa visualizzare quanti titoli siano disponibili. Probabilmente è colpa di Epic Games. Passiamo ora all'esperienza. La prima volta che vi parlai di GeForce Now su questo canale, che era ancora una beta, ma proprio una roba astrattissima, era il 2018 e uno dei problemi principali che portava alla luce per quanto riguardava il servizio era la questione dei login. Cioè tu entravi in una macchina, come una macchina virtuale che potreste fare sul vostro server o PC, e dovevi loggare a mano scrivendo password, che spesso sono alfanumeriche, complesse e cose così, tutti i login, con il fatto che poi dopo essersi sloggati dovevi rifarlo ogni singola volta. Un incubo. Hanno migliorato tantissimo questo aspetto e in realtà è molto meglio che avere due PC. Vi spiego. Adesso i launcher si possono loggare direttamente dalla macchina su cui riproduciamo GeForce Now. Quindi per esempio io ho questo Mac, che oltretutto ho utilizzato per i test più avanti nel video, e se voglio loggare per esempio Epic Games, che ha il login con Google, posso farlo in maniera semplicissima. Oltretutto, cosa molto interessante, è che una volta loggati su GeForce Now rimarranno tali. Quindi se io faccio il login dei miei launcher Steam, Epic Games, Ubisoft e compagnia cantante su questo Mac, dopo avrò esattamente lo stesso login su qualsiasi altra piattaforma che andrò a utilizzare, senza doverlo rifare ogni volta. Comodissimo. Cosa che invece non succede tra varie piattaforme. Spesso mi trovo Battle.net sloggato, Steam che magari mi fa qualche conflitto e dopo un po' si slogga, dopo magari, non lo so, una settimana che non utilizzo una determinata piattaforma. Tutto molto complesso. Qui invece, senza nessuna fatica. Per quanto riguarda le librerie, diciamo che l'unica pecca è che vanno aggiornate manualmente, nel senso che nel momento in cui non vediate un gioco che avete aggiunto alla vostra libreria, perché magari è appena uscito o perché l'avete appena acquistato, dovrete fare l'aggiornamento manualmente. Non è un grande sforzo, però ve lo dico come uno dei pochi punti negativi di questo servizio. Abbonamenti. Come si divide GeForce Now? Allora, ci sono tre tier. Uno è quello gratuito. Ti permette di giocare un'oretta, hai il minimo della configurazione in 1080p, e avrai una coda di giocatori davanti. Nessun accesso prioritario e soprattutto nessun accesso alle tecnologie di Nvidia come DLSS e Ray Tracing. Diciamo che va bene per chi voglia provare un pochettino il servizio, ma non aspettatevi un qualcosa di egregio. Il primo pacchetto a pagamento da 1099 è il Priority, e ci permette uno streaming 1080p fino a 60fps, con effettivamente il pacchetto di tecnologie Nvidia con Ray Tracing e DLSS. I server sono premium e le sessioni possono durare fino a 6 ore. Invece sopra troviamo il pacchetto Ultimate, che è quello che ci permette di fare streaming fino a 4k, 240fps, sfruttando la potenza di calcolo di circa una 4080 super. Pacchetto ovviamente con Ray Tracing, DLSS, sessioni di gioco fino a 8 ore, e ovviamente server premium con accesso prioritario. I prezzi possono sembrare abbastanza alti, ma se facciamo un abbonamento da 6 mesi scendono tanto. Nel senso che il pacchetto Priority scende a 54,99, mentre quello Ultimate scende a 109€. Se vi fate due conti sono 218€ per un anno con una build con 4080 super. Questo vuol dire che con poco più di 1100€ vi fate 5 anni di servizio, che onestamente sono comunque meno del costo della singola 4080 super che avrete, potendo però giocare su qualsiasi piattaforma. Tablet, Macbook, PC portatili, iPhone, telefoni, di qualsiasi natura. Ovviamente ragazzi, tutti questi pacchetti presuppongono che voi abbiate una connessione a internet. Non possono essere utilizzati assolutamente offline, tutta la potenza di calcolo è sempre e perennemente online richiede internet. Per quanto riguarda la qualità dello streaming, ovviamente anche la vostra connessione non può essere malissimo, ma dopo vi faccio vedere che ho fatto alcuni test sfruttando semplicemente il 5G del mio cellulare e che sia effettivamente riuscito a giocare. Passiamo quindi alla fase di esperienza. Come si gioca su GeForce Now? Allora, prima di tutto l'esperienza di gioco è personalizzabile esattamente come su di un PC, nel senso che una volta entrati all'interno della sezione di gioco, semplicemente avviando il gioco dalla piattaforma di GeForce Now o dal browser, avremo la possibilità di personalizzare tutto quanto, attivare e disattivare il ray tracing, mettere il DLSS, cambiare i settaggi grafici, praticamente è proprio come avere un PC. Ora, esperienza di gioco, l'ho testata in diversi contesti. Prima di tutto, se vedete che le clip registrate sembrano un po' sgranate è perché il servizio permette di registrare e streamare quello che stiamo facendo, cosa molto interessante, esattamente come potreste fare se aveste una 4080 Super nel vostro PC. Però effettivamente parlando, il problema è che non permette di registrare sopra il 1440p per adesso e quindi questa cosa limita un pochettino la qualità. E oltretutto si immette anche il fatto che sia uno streaming, perché sapete, insomma, se avete mai avuto un Blu-ray e Netflix, che la differenza tra il fisico e il digitale rimane sempre comunque percettibile, soprattutto in caso di connessioni un po' altalenanti. Quindi di per sé se le clip le vedete un po' sgranate, principalmente perché sono state registrate in 1440p e poi perché sono appunto un pochettino ridotte per lo streaming. Per quanto riguarda l'esperienza di utilizzo, devo dire, ho provato un po' di giochi dai più dinamici agli strategici per capire un pochettino la situazione. Titoli come per esempio Warhammer Space Marine 2 sono assolutamente giocabili, nella porzione del single player. Non ho notato nessun problema, tant'è che a un certo punto, quando sono tornato a giocare una volta, mi sono chiesto se effettivamente stessi usando il mio PC o GeForce Now. Probabilmente se facessi un blind test sarebbe difficile per molte persone percepire la differenza. Ad ogni modo, per quanto riguarda l'esperienza di gioco in generale, l'input lag è molto, molto moderato. Ovviamente io ho una connessione veramente molto buona. In questo caso stavo giocando però con il Wi-Fi, con una connessione di 1 giga, quindi una connessione che effettivamente nelle principali città italiane è disponibile da molti anni. Io a Sassari l'avevo nel 2018, e stiamo parlando di una città del nord-ovest Sardegna. Ma non serve 1 giga. Più o meno se vedete i dati a schermo di questa clip di Space Marine potete vedere che stanno venendo utilizzati meno di 200 mega, che so che per alcuni sono un qualcosa di proibitivo, e non lo nego, però effettivamente al tempo stesso per quelli interessati che godano di una connessione del genere effettivamente può essere una soluzione valida. Ovviamente non c'entra solo la velocità di connessione, ma anche aspetti come per esempio jitter, ping, qualità dell'infrastruttura casalinga e di quello che ci arriva direttamente in casa, se abbiamo un FTTC o una FTTH. Insomma, ci sono un numero di aspetti, anche per esempio soltanto il peso del server in quel momento, se magari giochiamo in un momento molto affollato, potrebbe far variare la nostra esperienza. Ma alla fine sono tutte cose che già conosciamo grazie a Netflix e a servizi del genere, perché sappiamo un pochettino come funziona. Ho provato anche a giocare un pochettino in PvP, nel senso provare un attimino a vedere se in un contesto più dinamico, dove serve più precisione, perché se giocando contro un essere umano su un PC normale, probabilmente, o su una console, comunque sia fattibile, se sia possibile. Allora, personalmente ritengo che, nonostante la mia eccellente connessione, sia difficile avere uno a uno l'esatta quantità di latenza di cui goda un PC normale. Nel senso che si può giocare, si può giocare tranquillamente. Se non si hanno grandi pretese, si gioca in maniera casual. Se volete giocare però in maniera competitiva, secondo me questa non è la piattaforma che fa per voi. A meno che proprio non siate disperati. Però effettivamente parlando, c'è anche da dire, ragazzi, che nel contesto competitivo, tolti titoli come Warzone o Apex Legends, che sono un pochettino più pesanti, la maggior parte dei giochi è capace di girare su PC veramente con hardware scadente o molto datato. Quindi di per sé la fascia bassa, se per esempio viene accelerata in combinazione con GeForce Now, potrebbe essere una combo che vi permette di giocare sul servizio di streaming a titoli AAA e invece sulla vostra piattaforma a titoli come per esempio Counter Strike, Fortnite, Dota, StarCraft o robe del genere, The Finals e quelli così, insomma. Andando quindi a fare un approccio multiplo in base alle nostre necessità, senza dover realmente comprare una 4080 Super per poter giocare all'ultimo Wukong o titoli sì. Ovviamente GeForce Now ha una carta veramente molto molto buona che è quella di poter giocare su dispositivi Apple perché effettivamente, come potete vedere in queste clip, io ho fatto un bel po' di gaming su MacBook e si può giocare a letteralmente qualsiasi cosa ed è molto molto interessante. Ovviamente anche in questo contesto io ho un'ottima connessione, stiamo parlando di circa 1.6 giga sul Wi-Fi quindi sono decisamente sopra la media italiana e questo non fa testo. Però parlando dell'esperienza in sé è assolutamente super giocabile anche su un dispositivo che normalmente faticherebbe a far girare veramente qualsiasi gioco. Oltretutto con una risoluzione di monitor anche abbastanza alta perché il MacBook non è un 1080p, questo è una loro risoluzione particolare ma è molto vicina al 1440p fondamentalmente quindi di per sé la qualità video è anche piuttosto buona. Si nota nei classi certi fatti dello streaming? Certamente. però di per sé è un'esperienza che questo Mac non sarebbe mai in grado di darmi ed è molto interessante. Per cercare di capire quale potesse essere l'esperienza con una connessione un po' peggiore ho deciso di nerfarmi un pochettino e di sfruttare la connessione del mio iPhone quindi il 5G come potete vedere in questa clip direttamente sul mio MacBook mediante appunto hotspot. Il mio verdetto finale è che effettivamente con una connessione meno stabile si nota un incremento nell'input lag. Non che renda i giochi single player come appunto Cyberpunk che vedete in questa clip ingiocabili però di per sé titoli dinamici che richiedano una maggior precisione come banalmente Space Marine mi fanno dubitare del volerlo fare nel senso non è stata proprio un'esperienza piacevole ecco a quel punto preferirei effettivamente passare a qualcosa di un po' meno dinamico sempre nel contesto del PvP però effettivamente se parliamo di PvE quindi contro unità controllate dal computer e non da esseri umani effettivamente l'esperienza è molto molto buona anche con una connessione disastrata devo essere onesto rispetto al 2018-2020 ultime volte che ho sfruttato GeForce Now per giocare il servizio è migliorato notevolmente i login semplificati sono stata una delle prime cose poi il fatto di aver aggiunto i giochi al day one secondo me valorizza tantissimo il servizio ma soprattutto secondo me GeForce Now va visto in un'ottica che ad alcuni manca non come un sostituto completo del PC gaming ma come un servizio di affiancamento allo stesso vi spiego per esempio adesso siamo a cavallo tra la generazione 40 e la generazione 50 delle schede video si pensa che al CS 2025 usciranno le 5090 quantomeno verranno annunciate anche le 5080 magari siete delle persone con una 6600 XT con una 3060 faticate un pochettino ma volete giocare ai titoli più recenti in maniera anche un pochettino magari cinematografica volete fare quell'upgrade ne avete completamente diritto però al tempo stesso non volete comprare l'attuale generazione perché volete vedere che cosa offrirà la prossima o magari semplicemente aspettarla perché vi possa dare la possibilità di far abbassare i prezzi di quella attuale ci sta e allora cosa fate vi fate 6 mesi di GeForce Now 4K 109 euro molto meno di quanto costi comprare una 4080 Super al momento vi giocate Wukong vi giocate Outlaws Frostpunk 2 tutti i titoli che sono usciti che magari la vostra configurazione fatica a far girare molto tranquilli ci giocate li finite ve li portate a casa e poi più avanti vi comprate la vostra scheda video quando avrete fatto le vostre valutazioni con completa calma e senza farvi prendere dal like ditemi se non è una buona soluzione magari avessi avuto queste possibilità 6 anni fa perché oggettivamente GeForce Now è un servizio in divinire ma secondo me solo adesso solo quest'anno solo negli ultimi 6 mesi ha raggiunto la vera maturità come servizio soprattutto con il fatto dei giochi al day one quella secondo me è stata la cosa più importante perché effettivamente che mi serve tutta sta potenza di calcolo se poi per l'ultimo titolo devo aspettare 3-4 mesi per giocarci oppure altro esempio ragazzi fallimenti come PS5 Pro è una generazione un po' fallimentare che magari alcuni potrebbero valutare da prendere per poi giocare e chiudere la generazione e cose così e invece al posto di PS5 Pro con il disco e lo stand da 950 euro o vi fate 4 anni e mezzo di GeForce Now vi fate 4 anni e mezzo di GeForce Now con quei soldi certo alla fine non possiederete il prodotto finale questo è vero non possiederai nulla e sarai felice c'è il famoso detto che mi scrivete sempre quando parlo di streaming e di servizi come il Game Pass però alla fine della fiera avete giocato che era il vostro obiettivo finale non è tanto possedere un oggetto sì c'è il valore di rivendita e tutto quanto ma è più il fatto che abbiate avuto un servizio da utilizzare molto molto buono oltretutto senza aggiornamenti hardware e un'altra cosa molto importante che secondo me tanti si dimenticano di dire senza dover sfruttare la propria archiviazione e la propria connessione per scaricare i giochi questa è una cosa molto importante se voi avete una 100 mega che permette di far girare GeForce Now in maniera adeguata oggettivamente avrete comunque dei tempi biblici per scaricare i giochi invece su GeForce Now voi entrate e il gioco è già pronto perché? perché è collegato ad un server di Nvidia che gira con una 100 giga raga cioè neanche lo vede il download fa così ed è pronto il gioco oltretutto la maggior parte dei titoli sono già preparati sulla piattaforma anni fa dovevi scaricarli adesso sono già pronti e oltretutto non stai utilizzando 300 giga per l'ultimo code non stai usando 120 giga per Space Marine 2 non stai usando tutto quello spazio che prima o poi ti costringerà a comprare un SSD o un HDD di supporto anche questi sono dei costi aggiuntivi che vanno messi in conto secondo me come servizio di streaming è veramente veramente esemplare l'unica cosa che mi dispiace di questo servizio oggettivamente secondo me AMD avrebbe le carte in regola per poterlo fare anche se adesso sta abbandonando la fascia alta fornire della potenza di calcolo del genere potrebbe essere un ottimo modo per invogliare le persone a passare al lato rosso così come appunto Nvidia sta invogliando la gente ad apprezzare i propri prodotti anche con servizi del genere oggettivamente la loro offerta al momento è tra le più complete in assoluto devo dire che ho faticato veramente tanto a trovare dei punti negativi per GeForce Now cioè per esempio sì non possiedi la macchina ci sta questo è un punto negativo per alcuni ma non per tutti sei dipendente dalla connessione ci sta questo è un punto molto importante in un paese disastrato come l'Italia dove io ho la 10 giga ma 4 strade più avanti hanno 10 mega cose del genere cioè sei dipendente dalla connessione non puoi giocare offline però sapete anche quale servizio super incredibile garantisce GeForce Now e questa è una cosa molto figa il gaming su Endeld Rogue Allie ma anche Steam Deck in beta ora permettono di utilizzare GeForce Now sulla console qualsiasi Endeld Windows based anche quella di Razer così come la Steam Deck in beta ora permettono di utilizzare GeForce Now ragazzi voi pensate sull'aereo giocate i vostri giochini indie tranquilli vi fate la vostra partita e tutto quanto come faccio sempre io quando viaggio per lavoro e ci sta arrivati in hotel arrivati a casa e cose così vi pompate la potenza di calcolo di una 4080 Super o del servizio 1080p che in questo caso sarebbe più adeguato e meno costoso 55 euro ogni 6 mesi e raga ve l'ha giocata la stragrande basta che abbiate una connessione decente ma come avete visto anche con l'hotspot di un telefono si può giocare è un servizio molto molto dinamico che permette diverse possibilità quindi io non vi voglio vendere niente non ci guadagno niente da sto video volevo soltanto fare una recensione completa di GeForce Now spero che le mie parole vi siano state d'aiuto in qualche modo se avevate qualche dubbio spero di aver dato il maggior numero possibile di informazioni noi ci vediamo al prossimo video voi state su Modern Tech grazie per l'attenzione sono già